ragazzi volevo farvi vedere le cose che ho comprato da amazon scusate le voci cose per la scuola scusate veloce assonnate ma ci siamo appena svegliati allora ho preso questi gessettini qui guardate come si fa però ho fatto già un errore mi sono accorta non avevo capito in questi gessetti già usciva il cancellino per la lavagnetta vedi questo vedi com'è è un coso per la lavagnetta vabbè lo uso io per la doccia per farti la doccia per lavarti ma invece ho comprato pure il cancellino però questo è più bello mi piace di più il cancellino classico mi ricorda proprio la scuola vabbè lo uso io questi sono i gessetti l'ho preso uno bianchi e uno colorati vabbè li ho presi perché costavano poco e stavano un'offerta sono sfiziosi e poi ho preso aiuto questa è la lavagnetta la lavagnetta che ho preso guardate come carina kitchen notes bellina di legno la dobbiamo appendere in cucina vabbè si vede riflesso io col pigiama poi ho preso queste che sono la pellicola di vetro la protezione per il telefonino perché si è rotta stessa poi ho preso una cover questa è una cover che ho preso io rosa oro 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 rosa bella per il telefonino mi sono lasciata prendere un po la mano perché da amazon dice ti consiglio anche questo ma così ad una pellicola ho consigliato questo ho consigliato pure il calendario l'ho preso un po di tutto preso insomma calendario della nonna le ricette dei rimedi della notte ottimo per una coppia giovane 7 sempre utile sapere i rimedi della nonna ecco qua io sarò sempre il gessetti viola io sarò questo qua viola che ci stanno contro la ho preso sia bianchi colorati madonna sai la polvere mamma mia peggio di una casa mica disperata però meno male che la nostra cara carlita ci ha regalato l'aspirapolvere è vero mia sorella ci ha regalato una grande aspirapolvere la ringraziamo infatti ora david si alza e pulisce tutta la casa con l'aspirapolvere intanto mia sorella e dario dormono ancora vabbè poverini hanno fatto un viaggio hanno lavorato fino alle 9 e poi ieri ieri dopo aver mangiato tutta quella roba e mia sorella ci siamo confessate siamo stati fino alle 4 di mattina a chiacchierare aggiornarci su tutto ma voglio farvi dire quello che abbiamo combinato ieri anzi quello che ho combinato ieri ah è vero tu hai combinato un guaio attenzione allora ieri mentre cucinavi la matticiana è successo un incidente domestico l'incidente si era fermato a questo cioè si era bruciato il panno da cucina vabbè il mio intera cucicata poi devo dire l'aiuto cuoco proprio io ero l'aiuto cuoco mi guardavo seduta con la mano sotto il vento perché dovevo dirlo perché hai fatto la pasta a tutti tranne che a me ho capito ti ripeto se l'ho fatto tutto da solo magari la sacchietta a me la mano facciamo prima ma io stavo cacchierando con mia sorella non devo dare una vita qua sta a volare tutto eh in modo che la tolgo e niente che è successo qua praticamente in teoria il pompiere che è sempre io perché poi ho fatto tutto io ha cercato di spengere con tecniche avanzatissime e ignifiche questo panno che stava andando a fuoco il risultato è questo che stai riuscita a ricreare la maschera no vabbè troppo divertente questa cosa ci si è bruciata veramente si è bruciata con... si è fatto una maschera con gli occhi cioè è assurda ci vogliamo le tazze wow e che avevo capito e te l'hanno messo qua dentro è un buco che bello apriamo vediamo cosa c'è madonna mia che sono queste bombe madonna mia mi sa che avete salserato madonna ma che roba ma che sono? questo è connetto al cioccolato questo è una bomba allora ci piega david cioccolato 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 è vero marmellata è semplice con il miele buonissimo mamma mia eh la facciamo tutti quanti a metà amore vuoi prendere ma puoi prendere pure un bicchiere che fa? è che riusciva pure ecco l'outfit di oggi ragazze come quello di ieri non è vero addosso queste scarpette dell'Adidas ahahahah vado a fare più allora scarpette dell'Adidas un pantaloncino vecchissimo strappato questo era della Levis l'abbiamo strappato l'ho reso così ma che dici? ah quindi questo non nasceva così sto jeans un jeans classico 501 della Levis strappato poi 500 ahahah tanto il numero ahahah ahahah ragazzi ricordati di me nella mia pelle ricordati di te com'è ragazzi guardate che fila per andare a Colosseo mamma mia tranquilli c'ho le chiavi ah vabbè allora ahahah 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 no a te per americano ti prendo si a me spagnola invece eh il problema è che mi afficano pure il cosa di americano il menù americano cappuccino 2 euro ma come 2 euro l'altro ieri mi sono venuto ah Donino non ce la provava sa pure gente che viene da Carlita shop qua fine qua siete arrivati si eh gli hai detto venite venite ciao Nenzi andate a vedere anche i vlog di Nenzi andate a vedere anche i vlog di Carlita bellissimo anche là questo è patè di olive questo è prosciutto crudo riso e pomodorini quello è con la nutella non è la nutella questa non è la 8 ma non è la 20 un'ottima non è la 99 non è la 60 non è la 20 Quale hai preso alla fine? Biscopi della noce Ragazze, canita dolce è venuta a casa mia e mi ha obbligato a vedere i suoi video Siamo immobilizzati qua, io e David ha detto che dobbiamo vedere tutti i suoi video, aiutateci Guardate la tv L'avete visto? Guardate, le sue scene tristi poi ci dobbiamo vedere, Merluzzo, ma che ci frega a noi, da Che dobbiamo fare? Ti piace la mia sorella, il video di mia sorella? C'è più di alzata accanto, queste domande vivole Dario sta dormendo intanto Dario dorme Eccolo là, Laina sveglio Ma è buona questa cenetta? Buona, eh? Zucchine Buona, buona E saprete la ricetta La mia sorella, la mia sorella, la mia sorella, la mia sorella La mia sorella, la mia sorella, la mia sorella, la mia sorella La mia sorella, la mia sorella, la mia sorella, la mia sorella La mia sorella, 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 la